Adesso continuiamo con la presentazione degli strumenti Adesso Daniele Tommaso vi presenterà il nuovo strumento musicale Il trombone Il trombone è uno strumento musicale affilato appartenente alla famiglia degli autori Esistono due tipi di tromboli, il trombone a tiro e il trombone a culis È caratterizzato da un punto mobile e la forma di U che unisce con tutti i paralleli ed è in questo modo allontabile, modificato la lunghezza del percorso dell'aria e, di conseguenza, l'intonazione dell'armonico di base Il trombone, a pistoli, è invece strutturato sui decimi principi della tromba e rimane ancora oggi molto presente nelle bande musicali Il trombone può avere un'ampia gamba di timbre Ovevoci un omestoso, strunante, solenne, chiaro, impretoso e brillante ma anche dolce, morbido, litico, scuro, leggero e tanto Grazie 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 Grazie